La sporca bellezza è un titolo che nasce dalla volontà di raccontare un tipo di bellezza diversa che ho sperimentato in questi anni di lavoro di frontiera, per capire come la bellezza è curativa, aiuta a vivere meglio, aiuta a iniziare dei processi che possono essere anche dei processi che conducono alla riconciliazione delle persone tra di loro nella vita e verso il futuro. Il grande privilegio di questi anni di lavorare con Emergency è stato quello di mettere la mia professionalità a disposizione di processi che generavano idee di futuro. idee di considerare le vittime della guerra, delle povertà come delle persone, non come dei numeri. La bellezza in questo libro racconta del rispetto, del rispetto che noi abbiamo riservato a queste persone non come profughi o poveri o vittime di guerra ma semplicemente come portatori di diritto, persone che avevano diritto ad essere curati e a stare in un luogo degno di questo nome. Abbiamo lavorato nel Kurdistan iracheno, nella zona molto vicina al fronte e abbiamo dimostrato con questo progetto che abbiamo voluto tenere al minimo come, pur usando gli stessi criteri, gli stessi metodi, gli stessi materiali, gli stessi approcci progettuali che vengono dati, che vengono fatti normalmente nei campi profughi, siamo riusciti a dimostrare come all'interno di questo contesto siamo riusciti a costruire degli edifici umani, degli edifici che fossero raccoglienti, per cui con dei piccolissimi interventi nella cura degli spazi comuni, nell'uso del colore, nell'inserimento di spazi verdi, cioè uno degli elementi fondamentali nei nostri progetti è l'uso del verde, perché un albero e la cura di un giardino significa veramente costruire un processo diverso anche dal punto di vista psicologico, cioè aiuta a curare le persone perché gli fa capire che in quel luogo c'è realmente cura. Il verde è un elemento quasi simbolico fortissimo perché rappresenta il giardino dell'Eden, per cui in queste zone desertiche disperate, fatte di tende o di container, questi edifici, questi luoghi hanno creato una simpatia con le persone che li vivevano. Questo è un po' il senso anche provocatorio, di mettere in contraddizione la bellezza con la sporcizia, nel senso che in questi luoghi più duri, più separati da qualunque tipo di realtà, che possono essere le zone di guerra piuttosto che i campi profumi, ma anche i luoghi di degrado che abbiamo incontrato in Italia, come questi semi di futuro in qualche modo, anche da questa sporcizia, siano degli elementi che costituiscono un momento di speranza per il futuro.